Grazie a tutti. Ma ascoltiamo Antonio Di Nardo, portavoce dei Cobas Cardarelli, e Marco De Sole, delegato dei rappresentanti Narsing Up Cardarelli del sindacato infermieri. Questa manifestazione che abbiamo fatto in collaborazione con l'organizzazione sindacale del Narsing Up, quindi una rappresentanza degli infermieri, riguarda in particolar modo la fascia economica che questi lavoratori di questa azienda non percepiscono dal 2009. L'azienda quindi deve dare una risposta netta, quindi dare la fascia ai lavoratori assolutamente, quindi non ci sono più scuse e soprattutto io aggiungo un appello che rivolgo alla regione, un commissariamento rapido e veloce, un azzeramento di tutti i vertici e quindi i dirigenti di questa azienda. Nella legge di stabilità del 2015 è stata data la possibilità da parte del governo di dare la progressione economica a tutti gli infermieri e gli operatori sociosanitari di questa azienda. A differenza di altre aziende dove si sta verificando questo, nella nostra azienda la direzione strategica ha fatto una scelta opposta, cioè quella di devolvere i fondi che ci sono e che andrebbero spesi necessariamente entro il dicembre di quest'anno, di fare le posizioni organizzative. Grazie. Grazie.